E siamo in pieni a mio tazzo, quando io ero anche uno yuppie, che inventavo quelli droga pubblicitari fantastici tipo Venatissimo e ma i sorrisi di staffa, staffa e un sorriso di staffa, ero un genio, come era un genio gattivo, un musicista romano di 5 milioni di copie in tutto il mondo con questo meraviglioso giro di piano. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Ringrazio tutta l'organizzazione, ma il suore, 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 il suore. Ringrazio tutta l'organizzazione, ma il suore, il suore, il suore, il suore. Ringrazio tutta l'organizzazione, ma il suore. Ringrazio tutta l'organizzazione, ma il suore. Ringrazio tutta l'organizzazione. 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 Grazie.